Con questo tutorial affrontiamo il teorema diretto, inverso, contrario e contronominale. Ricordiamo che cos'è un teorema. Un teorema è un enunciato la cui verità può essere dimostrata usando o dei postulati oppure altri teoremi. Una dimostrazione è un ragionamento logico che è composta da una sequenza di definizioni che, partendo da affermazioni che sono considerate vere che si chiamano ipotesi, si giunge ad una nuova affermazione che viene chiamata tesi. Possiamo riassumere il concetto di teorema. In questo schema, a partire da delle ipotesi, si giunge ad una tesi attraverso una dimostrazione. Possiamo definire un teorema come una implicazione logica tra due predicati. Il primo predicato viene chiamato ipotesi e le ipotesi sono le condizioni su cui è basato il ragionamento. Il secondo predicato viene chiamato tesi ed è la condizione che deriva dalle ipotesi. Se indichiamo con i i predicati che costituiscono le ipotesi e con t la tesi che dobbiamo dimostrare, allora l'ipotesi implicherà la tesi. Possiamo dire che l'ipotesi è condizione sufficiente per il verificarsi della tesi, mentre la tesi è condizione necessaria per il verificarsi dell'ipotesi. Per quanto riguarda la prima affermazione, possiamo dire che basta che viene verificata l'ipotesi, ossia condizione sufficiente, otteniamo la tesi. Per quanto riguarda invece la seconda affermazione, possiamo dire che per il verificarsi dell'ipotesi, cioè questa, è necessaria che sia verificata la tesi. Vediamo ora i modi in cui può essere presentato un teorema. Partiamo dal teorema diretto. Indichiamo con A l'ipotesi, con B la tesi. Quando in un teorema si ha che l'ipotesi A implica la tesi, il teorema si dice teorema diretto. Ed abbiamo dal punto di vista logico A implica B e si legge se A allora B. Abbiamo indicato la tavola della verità dell'implicazione logica. Vediamo ora il teorema inverso, che si ottiene scambiando l'ipotesi con la tesi. Infatti in questo caso abbiamo che B è l'ipotesi, mentre A è la tesi. E si legge se B allora A. E dal punto di vista logico scriviamo B implica A. E questa è la sua tavola della verità. Nel teorema contrario l'ipotesi è costituita dalla negazione dell'ipotesi del teorema diretto, mentre la tesi è costituita dalla negazione della tesi del teorema diretto e si legge se A allora non B. E dal punto di vista logico si scrive in questa maniera non A implica non B. E questa è la sua tavola della verità. Infine abbiamo il teorema contronominale. Nel teorema contronominale l'ipotesi è costituita dalla negazione della tesi del teorema diretto, mentre la tesi è costituita dalla negazione dell'ipotesi del teorema diretto. E si legge se non B allora non A. Il teorema contronominale si scrive in questo modo. Non B implica non A. E questa è la sua tavola della verità. Ora andiamo a riassumere in un'unica schermata tutti e quattro i teoremi. Mettiamo a confronto il teorema diretto, il teorema inverso, il teorema contrario ed il teorema contronominale. Fissiamo l'attenzione sull'ultima colonna del teorema diretto. A implica B. Posso osservare che quest'ultima colonna è uguale all'ultima colonna del teorema contronominale e allora posso dire che il teorema diretto risulterà essere equivalente al teorema contronominale perché questa tabella e questa tabella hanno sempre lo stesso valore di verità. Fissiamo ora l'attenzione sul teorema inverso e sul teorema contrario. Voglio verificare che questi due teoremi sono tra di loro equivalenti. Fisso l'attenzione sulla tabella del teorema contrario. Osservo che quando A è vera e B è vera si ottiene un valore di verità pari a vero. Nel teorema inverso quando A è vero e B è vero si ottiene vero. Andiamo avanti e passiamo alla seconda riga. Quando A è vero e B è falso otteniamo vero. Nel teorema inverso abbiamo A vero B falso ed otteniamo vero. Allora vuol dire che questa riga è uguale a questa riga. Andiamo ora alla terza riga ossia quando A è falso e B è vero ed otteniamo falso. Nel teorema inverso dobbiamo ritrovare A falso B vero e otteniamo falso e allora questa riga risulta equivalente a questa riga. Passiamo ora all'ultima riga. Abbiamo A che è falso B falso ed otteniamo vero e nel teorema inverso abbiamo falso, falso, vero. In questo modo abbiamo dimostrato l'equivalenza del teorema contrario con il teorema inverso. Possiamo allora ricapitolare in questo modo. Il teorema diretto A implica B equivale al teorema contronominale, ossia non B implica non A. E il teorema inverso, B implica A, equivale al teorema contrario, ossia non A implica non B. Per concludere vediamo un esempio. Consideriamo il teorema diretto A implica B che recita in questa maniera. Se un numero è multiplo di 4, allora è pari. In questo caso A, la nostra ipotesi è se un numero è multiplo di 4, mentre B, la nostra tesi, è pari. Il teorema diretto abbiamo visto che equivale al teorema contronominale, ossia non B implica non A, dove non B è la negazione della tesi del teorema diretto e allora la negazione di è pari sarà non è pari, mentre non A, che è la tesi del teorema contronominale, non è nient'altro che la negazione dell'ipotesi del teorema diretto. L'ipotesi del teorema diretto è è un multiplo di 4, quindi la sua negazione non A sarà non è un multiplo di 4. E quindi l'affermazione se un numero è multiplo di 4, allora è pari, equivale a dire se un numero non è pari, allora non è multiplo di 4. Vediamo ora il teorema inverso. B implica A. Nel teorema inverso l'ipotesi corrisponde alla tesi del teorema diretto, mentre la tesi è multiplo di 4 corrisponderà all'ipotesi del teorema diretto. Abbiamo visto che il teorema inverso è equivalente al teorema contrario, dove l'ipotesi non è nient'altro che la negazione dell'ipotesi del teorema diretto, mentre la tesi è la negazione della tesi del teorema diretto. Questi due teoremi sono equivalenti e quindi l'affermazione se un numero è pari, allora è multiplo di 4, equivale a dire se un numero non è multiplo di 4, allora non è pari. E con questo termino il tutorial sul teorema diretto inverso, contrario e contronominale.